Questo elegante casale di campagna, situato strategicamente a pochi chilometri da Roma, è la location ideale per vivere il vostro matrimonio come in una favola, di cui voi sarete i protagonisti. La dimora dispone al suo interno di un'ampia sala climatizzata dalla capienza di 200 invitati comodamente seduti. L'atmosfera che vi si respira è di grande eleganza e rilassatezza, immersa com'è attraverso le sue grandi aperture sul parco circostante e inoltre arredata con grande cura. L'esterno offre altrettanti scorci di grande bellezza che si adattano per incorniciare un perfetto e romantico ricevimento all'aperto. Il grande piazzale situato al centro del parco, lo splendido ed ampio porticato, i vasti prati verdissimi e curatissimi sono tutti luoghi incantevoli dove potrete allestire i festeggiamenti della vostra attesa unione nuziale. La location ha una sua cucina interna e inoltre collabora con le più affidabili e rinomate aziende di banketing e catering della capitale che vi garantiranno la tranquillità e la serenità di un servizio curato fin nel minimo dettaglio.